Dobbiamo abituarci, salutiamo in camera Giulia che ci sta riprendendo e poi molto di quello che succederà e diremo questa sera lo rivedrete sul nostro canale di più. Come stai? Molto bene. Sei pronto? La sera sei tranquilla. Salve Gianni Manuel, dicevamo poc'anzi che cosa succede in città lo diceva Scolossi, cosa succederà qui nelle prossime due ore non lo diciamo. No, non lo diciamo. Spediamo cos'è, Trebhausen non solo golf, un carambiare di golf che parla di golf e non solo, che parla di musica, di ascoltatori italiani e non solo, che sono in giro per il mondo, che sono in giro per il mondo, le c'è scontro di tanti in giro per il mondo. Guardi un Bartolini, che è il boss supremo direttore editoriale di golf di Bormecchio. Zoom sul direttore, Giulia, zoom su di lui. Allora, fai ricci anche del grande mancante che è Stefano Vasugno. Giulia, dai, scontriva a versare. Sta, io vorrei che fosse proprio meglio. Neanche io. Neanche io, cosa sta a farlo. Ma lei è un dettaglio di qualcuno. Giulia, Giulia, dai, fai le compie a Giulia. E' un bastardo Giulia, dai, vieni qui. Sono arrivati Giulia, ciao. Ciao a tutti, ciao a tutti da Lucina d'Italia a Lussaro. Grazie a tutti, grazie a tutti. Io prevenzo il centro Vecchio 2M e il Presidente New Technop. Non è anche un po' il nostro direttore. A quello che amiamo. Perché lui è il nostro nuovo format sulla cucina naturale, dove investeremo tutti i personaggi di Golf People Club Men, perché anche i golfisti li insegneremo a cucinare in un modo sano, rispettando la natura. La nostra Presidente questa non rispetta la dieta. No, io sì. Io sono sempre. Ma come si chiama la macchina Facebook? Con gusto giusto. Hai il video che deve dire in diretta tra 50 secondi. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Ciao. Giulia, Csenia, la Presidentessa Grazia. Sì, c'è anche Csenia. Csenia, saluta. Saluta Csenia. Ciao Stefano. Giulia, saluta. Per la gente, buona notte, buona notte, buona notte. Scusate, buona notte. Buona notte, buona notte. Vi sentiamo in replica durante tutta la settimana di nuovo in diretta l'ora di prossimo con Creme House Nossaro. Buona notte.